E adesso vorrei presentarvi una persona che molti di voi forse conoscono, che più di due anni fa ha acceso una scintilla che ha portato a uno scambio di informazioni, a uno scambio culturale e all'educazione di molte persone, grazie a cui in parte siamo tutti qua anche oggi. Forse avete capito chi è, è Federico Pistone, il coordinatore del movimento Zeitgeist. Ha fatto un grandissimo impegno personale e se almeno ogni persona nella sala qui facesse una parte di quello che ha fatto lui, si potrebbe veramente cambiare la società italiana. Evoluzione sociale tramite collaborazione open source. Se diamo uno sguardo alla società di oggi, possiamo raggiungere una conclusione chiara. Le cose vanno male. Abbiamo il tasso di disoccupazione che aumenta. La speculazione finanziaria sta mettendo in ginocchio milioni di persone. La classe media viene spazzata via, mentre l'1% più ricco continua ad accumulare più potere. Poi la degradazione ambientale non ha mai raggiunto livelli simili. L'intera economia è basata su una crescita di risorse scarse e in esaurimento. Crescita continua, esponenziale, come abbiamo visto prima dagli ottimi relatori. I cambiamenti climatici potrebbero mettere in pericolo la nostra stessa sopravvivenza sul pianeta. questa cosa non è mai successa. A guardare meglio le cose non è che vanno male, vanno peggio. Lo sappiamo tutti ormai, perciò oggi non voglio raccontare queste storie. Voglio raccontare altre storie. La prima storia inizia nel 1877. Questo signore qui, George Selden, era un inventore e inventa quella che oggi conosciamo come la prima automobile. A dire il vero non non sappiamo se è stato veramente lui a inventare la prima automobile, ma sicuramente è il primo che l'ha brevettata. La brevetta è nel 1985, scusate, registra il brevetto per la prima automobile. Per anni gode dei frutti di questo monopolio, che impediva a chiunque altro al mondo di modificare l'auto a proprio piacimento. Tutti quanti dovevano sottostare alle regole imposte da Selden. Altrimenti rischiavano una causa e finiti. Allora facciamo un salto in avanti. Nel 1911 un altro signore, questo qui, Henry Ford, sfida questo brevetto e vince. Forma quindi un'associazione chiamata la Motor Vehicle Manufacturers Association, l'associazione dell'industria manufatturiera degli produttori di veicoli. E questa qui cosa si facevano? Tutte le compagnie che ne facevano parte aderivano al principio secondo cui quando veniva fatta una nuova scoperta o registravano un brevetto, avrebbero dovuto condividere tutta la conoscenza immediatamente con tutte le altre aziende che ne facevano parte. Senza denaro, senza cause legali. Come conseguenza nel 1940 circa 500 brevetti erano stati registrati da queste compagnie e l'industria automobilistica aveva trasformato la faccia della terra. Per sempre. Facciamo un altro banzo in avanti. È il 1983 un ragazzo barbuto, che vedete qui, con una grande visione, decide che il mondo ha bisogno di più libertà. Libertà vera. In questo caso specifico, libertà di scrivere e condividere codice software. Richard Stallman fonda il movimento del software libero. Un movimento che open source, da lì in poi è successo qualcosa di incredibile, di inverosimile. Centinaia, poi migliaia, poi addirittura milioni di persone hanno cominciato a utilizzare, scrivere e condividere software libero. Ma il software era solamente il primo passo. Presto anche l'arte e la cultura volevano essere liberate. Il più grande archivio di fotografie, quadri, musica, video della storia dell'umanità oggi ha una licenza libera. Creative Commons, Wikipedia, questi qui sono nomi che ormai tutti quanti conoscono e fanno parte della nostra cultura, sono parte del nostro DNA culturale. Diamo uno sguardo a questo grafico. Questa, Daniele, ecco, crescita esponenziale. Delle opere rilasciate sotto licenza libera, in questo caso Creative Commons. Le 2003, vedete? Nessuna. 2010. Più di 400 milioni. 400 milioni. Il congresso americano, tutta la storia degli Stati Uniti d'America e prima, ha meno opere. in sette anni. Questo è quello che noi facciamo quando siamo liberi di condividere. Quando abbiamo la scelta e la libertà di poter decidere che cosa vogliamo condividere e a che livello. Però, nonostante questo sia uno dei più grandi eventi della storia dell'umanità, non ci diamo peso. Ormai lo sappiamo tutti, è storia vecchia. Tre anni fa. Io ho identificato due tipologie di eventi. La prima è quella che diamo per scontati, prima tipologia, e la seconda sono quelli che nessuno conosce. Allora oggi vorrei parlarvi di alcune storie, vorrei raccontare delle storie che nessuno conosce. Beh, in realtà forse qualcuno di voi le conoscono, però voi siete un pubblico particolare. La gran parte della gente non ne ha la minima idea. I giornali non ne parlano, le tv non ne parlano, eppure sono storie che mi danno speranza per il futuro dell'umanità. Vi presento Jay Bradner. Lui è un medico, è un ricercatore a Harvard sul cancro, un oncologo. Questo qui è suo papà e suo figlio. Suo papà ha una rara forma di tumore al pancreas. Incurabile. In realtà si conosce bene la causa, ma la ricerca sulle cure è ferma agli anni 80, perché non c'è profitto, è troppo raro. Allora Bradner capisce che l'oncologia è un mondo morto e che lì non c'è futuro. Non c'è futuro per suo padre, di sicuro. Allora cosa fa? Dice, basta, basta, torno a scuola, studio chimica per avere una visione diversa. A un certo punto finisce, decide di cambiare, apre un nuovo centro di ricerca suo e sviluppa una molecola, questa molecola qui chiamata JQ1, che sembra avere delle proprietà interessanti, che potrebbe aprire un ramo di ricerca per una possibile cura per il tumore di suo papà. A questo punto però si trova di fronte a un dilemma, che cosa fare? Cioè i centri di ricerca, di solito, che cosa fanno in situazioni come questa? Mantengono il segreto industriale, prima del brevetto, il brevetto solo quando ultima risorsa. Sviluppano per anni internamente con le poche risorse che hanno e poi eventualmente brevettano, escono con la cura e guadagnano milioni. Ecco, lui decide di fare esattamente l'opposto. Pubblica. Pubblica i risultati, ma non solo i risultati, pubblica anche la molecola con tutte le specifiche, le istruzioni dettagliate su come realizzarla e anche l'indirizzo email a cui scrivere. Quindi se gli scrivete vi manderà i campioni della molecola gratis a casa. Così potete fare tutti gli esperimenti che volete. Ha creato l'ambiente più competitivo che poteva per la sua azienda. Ma che se ne frega, tanto lui lo faceva per suo papà, non lo faceva mica per fare i soldi. E il risultato qual è stato? In pochi mesi hanno condiviso questa molecola con 40 laboratori negli Stati Uniti e altri 30 in Europa, molti dei quali fanno parte di aziende farmaceutiche, tra l'altro. La cosa incredibile è che la scienza ha preso piede in entrambe le direzioni. E queste compagnie qui hanno spedito i risultati indietro. Cosa che ha sconvolto Bradner e il suo team, perché i risultati che sono arrivati non li avrebbero mai potuti prevedere. A quanto pare questa molecola JQ1 è riuscita a trasformare cellule leucemiche nei topi in cellule sane. Topi affetti da mieloma multiplo, un mare incurabile del midollo osseo, sono guariti. A tutte queste scoperte non sarebbero state possibili se il piccolo centro di ricerca avesse perseguito il suo scopo diretto senza condividere questa informazione con il resto del mondo. Ed è proprio questa, è l'informazione, una stringa di caratteri che sta dentro a un tweet o uno status update su Facebook, voi mettete questa in rete, sono 100 caratteri, diventa virale, questa può salvare milioni di persone. quella stringa lì di caratteri, se condivisa. Bradner e il suo team hanno voluto condurre un esperimento sociale. Questo post di Twitter vale più dell'oro, dei poteri territoriali, della politica e degli interessi finanziari. Hanno voluto vedere cosa sarebbe successo se avessero messo a disposizione di tutto il mondo quello che avevano scoperto. Sicuramente non sono stati i premi a farlo, questo non è che la più recente delle storie dell'open science. Sappiamo che è possibile, sappiamo che funziona e che sempre più scienziati hanno fatto loro questo valore morale. Ecco, questo mi dà speranza per il futuro. La seconda storia che voglio raccontare ha come protagonista questo signore qui, Marcin Jakubowski. Lo conoscete? Nasce in Polonia e si trasferisce negli Stati Uniti. Allora, studia fisica all'università. Io ho fatto l'università, ho studiato anche fisica, non so se avete presente. Consegue un dottorato di ricerca in fusione nucleare. A un certo punto, però, si rende conto di essere inutile. Completamente inutile. Chiuso nella sua torre di avorio tra formule e teorie matematiche, si chiede in che modo stia aiutando il resto dell'umanità. Così lascia tutto, cambio. Vita all'aperto, natura, piante, terra. Inizia una fattoria. Così. Compra un trattore, che dopo poco si rompe, paga per aggiustarlo e poi si rompe di nuovo, ovviamente. E dopo poco si era rotto lui stesso, cioè era in banca rotta, anzi. Si rende conto che il sistema economico e finanziario non poteva generare alcun altro risultato. Come ha detto prima Daniele, il sistema basato sul consumo ciclico richiede che i prodotti vengano creati con una data di scadenza sopra, che venga pianificata all'obsolescenza dei prodotti stessi. Così chiedi i prestiti alle banche per sistemarli o comprarne di nuovi, che poi si rompono di nuovo e a questo punto hai il doppio problema, perché sei senza soldi, anzi peggio, perché ti sei indebitato, non riesci neanche a produrre ciò che ti servirebbe a pagare i debiti. Perfetto, hai chiuso il ciclo. Ecco, siccome la banda Bassotti e Gambia di Legno non andavano a genio a questo signore, capisce che gli strumenti per la costruzione di una comunità sostenibile, che siano quindi efficienti, modulari, a basso costo e resistenti, semplicemente non esistevano in tutto il mondo. E allora fa una scelta di campo. Decide di costruirli lui stesso. Per mesi si mette a sperimentare, a provare, a costruire, pubblica gli schemi, i design, i budget, fa i video istruttivi spiegando come si fa a realizzare questi strumenti. E li pubblica su una wiki, gratuitamente. A questo punto migliaia di persone le vedono tutto il mondo e tante saltano fuori con i loro suggerimenti, proponendo i loro design, modificati e migliorati. Tutto quanto open source. questo è il loro piano, è quello di costruire, è quello che chiamano il Global Village Construction Set. Si tratta di un kit di 50 macchine per la costruzione di un villaggio globale. 50 macchine considerate fondamentali per la costruzione, in pratica, di una piccola civilizzazione. macchine. Allora immaginatevi un attimo di trovarvi su un'isola deserta e l'unica cosa che avete è una chiavetta USB insieme a un portatile con le specifiche su come costruire queste 50 macchine. Bene. Avete tangibilmente la possibilità di costruire una civiltà sostenibile con i comfort moderni, senza tornare a uno stile di vita i 200 anni fa. Al momento hanno realizzato 6 di queste 50 macchine e prevedono di finirne altre 5 nel prossimo anno. Hanno anche lanciato una campagna di microfinanziamento in crowdsourcing su questo sito qui, Kickstarter, che ci vorrebbe una presentazione solo su questo. Ed è stata un grande successo. Come potete vedere, anch'io ho dato il mio contributo e nonostante sia piccolo, questa è la dimostrazione che non è vero che l'individuo non conta niente. L'individuo conta. Quando usiamo la tecnologia che ci dà la possibilità di esprimerci, questo è un utilizzo intelligente della tecnologia. Anche i piccoli contributi possono cambiare il mondo. E questo mi porta alla terza storia. Questo signore qui, che forse è il più conosciuto, Salman Khan. E venga allo statunitense. Brillante carriera accademica. Consegue prima una laurea al MIT, in matematica. Poi, non contento, prende un'altra laurea in informatica e in ingegnere elettronica. Ma siccome a lui piace studiare va avanti. Prende un altro master in informatica e ingegnere elettronica. Poi dice, ma sì, vado a Harvard, così, e prende un'altra laurea in economia e business. Ah, tutto prima di arrivare a 30 anni. Ok. Miglior studente che il MIT abbia mai avuto negli ultimi 20 anni, Clinton gli aveva dato personalmente un premio. Questo qua alle elementari gli dicevano che era stupido e che non poteva andare neanche al superiore. Storia conosciuta? Una persona così poteva fare qualunque cosa volesse nella vita. Qualunque. Nessun limite. Cosa pensate è andato a fare? Cosa è andato a fare? L'analista di fondi speculativi. Il lavoro più pagato al mondo. L'unico lavoro che ha una ritribuzione sicura di centinaia di migliaia se non milioni di euro ogni anno. I più grandi analisti di fondi speculativi guadagnano 800 milioni di euro all'anno fino ad arrivare a 10 miliardi di euro. Miliardi! Una persona, un analista di fondi speculativi può guadagnare 10-15 miliardi di euro all'anno. È la nostra finanziaria, dell'intero Stato Italia. Vi rendete conto? E dove li vanno a pescare i più brillanti, i migliori? Sono sempre quelli. Li prendono, li mettono lì e gli fanno fare questo lavoro. Poi un giorno torna a casa e si rende conto che la sua vita è inutile. Per cosa aveva studiato tutta quella roba? Per rendere un po' più ricchi quelli che già sono straricchi. E per quello che aveva studiato, aveva preso 5 lauree al MIT a Harvard e in giro per il mondo. E per questo che era il miglior studente che aveva mai avuto l'università. No. Torna a casa e si chiede, guardandosi allo specchio, ma in che modo oggi ho reso il mondo un posto migliore? Ha seguito un silenzio agghiacciante. E allora dice, ma che cosa sto facendo? Poi si ricorda che qualche giorno prima aveva aiutato la sua cuginetta Nadia, che abitava dall'altra parte degli Stati Uniti, con alcuni problemi di matematica. Faceva difficoltà. Il che l'aveva sorpreso molto perché aveva avuto le discussioni con lei e sembrava un adulto nonostante avesse 10-11 anni. E quando aveva sentito che ha problemi di matematica, fa no, scusa, ma che problema hai? Ah sai, il riporto, le edizioni. Non riusciva a capacità, qui c'è qualcosa che non va. E allora insomma insegna, comincia a fare tutoraggio via internet e vede che lei è brillante in realtà. Dice, ma come mai? Ma perché l'insegnante diceva così, io non ho capito, lui ha detto ah non c'è più tempo, andiamo avanti. Sei stupida. Allora lui gli suona una campanella in test, dice però ok, potrei fare così, registro delle piccole lezioni e invece stare sempre con te online, che anche se non capisci subito, poi ti senti la pressione di dire sì, 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 ho capito, ho capito, anche se non hai capito, ti registro la lezione, la metto online, te la scarichi, te la guardi, non hai capito, te la riguardi, non hai capito, te la riguardi. Il video non ti dirà mai sei stupida. No, te lo riguardi, non hai capito, te lo riguardi, fine. Il computer non ti giudica. Siamo noi. A quel punto dice, perché non le carico su YouTube? Poi dice, ma no, YouTube non è per roba seria, YouTube è per cani che vanno sullo skateboard, non è per matematica, trigonometria e queste cose qui. Però magari ci sono anche altri bambini che non sanno la matematica. E intanto io lo lascio lì, non fa male a nessuno, è gratis. Se qualcuno lo guarda, gli piace, gli interessa, insomma, gli può essere utile. Se posso aiutare la mia cuginetta Nadia, magari posso aiutare anche qualche altro bambino che nel giro del mondo ha un problema. E allora cosa fa? Pubblica i primi video. E poi altri. E poi altri. E poi altri. Insomma, in un anno ne carica circa mille. Mille da solo. 10-15 minuti l'uno. Video istruttivi che vanno dal 2 più 2 alla trigonometria, all'analisi matematica. E poi comincia anche a fare altre materie, visto che ha studiato finanza, fisica, chimica, biologia. Carica tutto. La sua conosce, ma sì, dai, insegna, insegna. A quel punto i suoi video sono stati visti da qualche milione di persone, così. Comincia a fare concorrenza Lady Gaga, il contatore di visite. E poi riceve delle lettere. E allora ve ne leggo una. Signor Khan, nessun insegnante mi ha mai portato nulla di buono. Potrebbe sembrare un po' brusco, ma è proprio così. Ero stato costretto a prendere psicofarmaci, perché chiacchieravo durante le lezioni. Ed ero castigato, perché non rispondevo quando ero interrogato. Da dove vengo io, i neri non sono accolti a braccia aperte a scuola. Mia madre e le sue sorelle dovevano andare in una piccola baracca a due ore di casa quando andavano a scuola. Circa cinque anni fa, la mia famiglia ha deciso di mettere da parte abbastanza soldi per spostarsi da dove sono nato. Così per darmi la possibilità di ricevere un'istruzione e avere una vita reale. Ma senza una reale padronanza della matematica elementare, sono stato lento a progredire. Ora sono all'università e sto imparando più cose di quante ne abbia mai imparate nella mia vita. Però le mie lacune in matematica mi hanno rallentato molto. Un giorno ho trovato la Khan Academy. Era giugno del 2009. Subito dopo ho completato Math 141, un corso di algebra al college. Ho trascorso tutta l'estate sulla sua pagina YouTube. Volevo solo ringraziarla per tutto quello che sta facendo. Lei è un dono dal cielo. La settimana scorsa ho dato un esame di matematica preliminare e ora sono nella classe speciale avanzata. Ho risposto correttamente a tutte le domande. Il docente del test ingresso fu così impressionato dalla vastità della mia conoscenza della matematica che mi ha detto che dovrei andare direttamente a fare algebra al meare. Signor Khan, posso dire senza alcun dubbio che lei ha cambiato per sempre la mia vita e la vita di tutta la mia famiglia. Grazie. Oggi la Khan Academy è la più grande scuola del mondo. 3.000 video che coprono matematica, storia, medicina, finanza, chimica, biologia, astronomia, economia, cosmologia, informatica, arte, appena aperto. E ogni giorno cresce sempre di più e sono aperti a collaborazioni, traduzioni, nuovi insegnanti. Quindi tutti possono contribuire. Gli esempi di open source e di collaborazione sono tanti. Sono troppi per citarli tutti. Per questo motivo non ho voluto fare una lista. Ho voluto raccontare delle storie. storie di persone, storie umane. Perché dietro ai grandi eventi, dietro ai numeri, dietro alla tecnologia, ci sono sempre delle persone con le loro storie che crescono. E allora cresciamo insieme. Grazie. 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 Grazie.